musica l'intervista col pelo è una cosa più originale allora facciamo questo progetto che è già un po' di anni che c'è che poi si prende musica da tutti i generi stasera non so cosa faremo, infatti noi non sappiamo mai quello che facciamo prima di salire sul palo adesso vediamo, il momento è l'attimo quindi più che cumpista siamo dataista beh no, dataista è un concetto diverso dataista annulla noi creiamo dataismo è annullamento la nostra è proprio creazione musica un brano il cubo da quel punto di vista è sempre diverso dal suo punto di vista è una cosa dal mio punto di vista è un'altra sta a noi riuscire a farla inquadrare bene sul palo vi presentate gli altri due assenti Giovanni Paolo Rigore e la batteria 18 anni poi c'è Andrea Massaria da Trieste chitarrista la seria eh sì seria l'italiano l'italiano l'uomo 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 Loverboot! Loverboot!